Carissimi fratelli e sorelle, gioia grande per coloro che accolgono Gesù, che il pane vivo disceso dal cielo, che sanzia le nostre anime. La nostra anima, creata da Dio, ha bisogno di questo cibo, il cibo dello spirito. Il cibo dei sensi possono accontentare in qualche cosa, in modo momentaneo, ma il cuore viene saziato unicamente dalla presenza dello Spirito di Dio, che si dona a noi, si partecipa a noi, per mezzo di Gesù, Signore e Salvatore nostro. E lui risiede, dice l'Apostolo Paolo, tutta la pienezza della divinità, e noi, lui, abbiamo parte alla sua pienezza. Voi, scrive San Paolo, siete morti, accettando Gesù nella vostra vita, siete morti a questo mondo, siete morti alla carne, e siete rinati in Cristo a vita nuova, siete rinati nello Spirito Santo. L'anime dell'uomo di questa sete, La mia anima ha sete di Dio, scrive il salmista, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, mentre esse mi dicono sempre, dove è il tuo Dio? Questo io ricordo, il mio cuore si istrugge, attraversavo la folla fino alla casa di Dio, in mezzo ai candidi, ciòia di una moltitudine in festa. L'anima dell'uomo ha bisogno di Dio, ha sete di Dio, o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anera la mia carne, a te anera la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. Vedete, fratelli, dentro ciascun uomo, c'è questo bisogno profondo di Dio, e il cuore lo cerca, altre volte il cuore si smarrisce in altre cose, ma ciò che il cuore cerca è quel pane che sanzia le profondità della sua anima. Nella prima lettura di oggi, noi troviamo, dal libro degli Atti degli Apostoli, un episodio. Lo Spirito Santo muove Filippo ad andare in un certo luogo, dove lo Spirito voleva fargli fare un incontro, e allora Filippo si rega in quel posto, ed ecco che passa un uomo su un caro, che legge le scritture, ma non comprende quelle che sta leggendo. E allora Filippo gli si accosta, e gli chiede se era in grado di comprendere ciò che stava leggendo. Il brano della scrittura era il capitolo cinquantotresimo di Isaia, dove appunto si dice che il figlio di Dio, il Messia, si è caricato di nostri dolori, ha presso di sé le nostre infermità, si è caricato di nostri dolori, il castigo che ci dà salvezza si è battuto su di lui, per le sue piaghe siete stati guariti. E quest'uomo che era un ministro della regina di Etiopia chiede a Filippo di chi sta parlando quel profeta, di se stesso o di qualcun altro? Allora Filippo si accosta a lui e gli spiega le scritture e gli annuncia Gesù che era venuto a prendersi i nostri peccati, per ordine di Dio Padre è venuto a prendere su di sé le nostre iniquità, lavarle nel suo sangue, cioè nel fuoco del suo amore. E quest'uomo si sente infiammato alle parole di Filippo, la sua anima si sazia di quella parola. E allora quest'uomo, passando vicino a uno stagno d'acqua, dice a Filippo abbiamo dell'acqua qui, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo lo battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Celebra la sua morte e la vita vecchia e la sua rinascita in Gesù Cristo e poi scompare davanti agli occhi di quest'uomo che non lo vede più. E quindi quell'uomo prosegue il suo viaggio pieno di gioia. Aveva mangiato, si era nutrito, la sua anima era stata ristorata. Ma guardate un po', fratelli, non era Filippo che voleva incontrare quell'uomo, né quell'uomo aveva disposto a quell'incontro, ma lo Spirito Santo aveva provocato quell'incontro. Se tu hai bisogno di Cristo, il Padre muove lo Spirito nello Spirito Santo, ti fa incontrare la persona giusta al momento giusto o fa capitare l'evento giusto perché tu ti possa incontrare con Gesù e nutrirti di Lui. E quando dice Gesù nel Vangelo che ascoltiamo oggi, nessuno viene a me se non è mosso dal Padre mio. Quanti di noi, fratelli, sono assetati di questo pane, sono assetati di quest'acqua, hanno questo bisogno profondo nel proprio cuore. C'è però chi cerca di soddisfare questo bisogno rivolgendosi a Dio con umiltà e serenità e piena disponibilità. C'è che invece si cerca di saziare il proprio cuore con le passioni, con le ricchezze, con i gusti, con i cibi ricercati, feste, vie, divertimenti. Ma in questo caso il cuore dell'uomo viene amareggiato, si esce poi in un modo strano perché il cuore ha bisogno dello Spirito di Dio che è amore. E allora Gesù nel Vangelo che ascoltiamo oggi lo dice chiaro, nessuno può venire a me se non lo attire il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. C'è bisogno di Dio dentro di te. Gesù accorre, Gesù accorre e come dice il profeta tutti saranno istruiti da Dio. E come viene il Signore a noi? Prima di tutto con la Sua parola. La parola di Dio è Dio. La parola di Dio è il figlio di Dio. Il cuore ha bisogno di nutrirsi parole di Dio. Guardate, fratelli, quante notizie riceviamo tristi o poco lieti riceviamo ogni giorno parole, chiacchiere, discorsi e via. Il cuore ha bisogno di ben altro, ha bisogno di sostanza. Ha bisogno di sostanza. Se una fama non è odorante l'odore della carne che viene cotta che si sanzia, ha bisogno di mangiare. c'è bisogno di quel pane che si sanzia l'anima. Ecco allora, Gesù, fratelli, si presenta a noi nel Vangelo come questo pane che Dio dà all'uomo. Non Mosè vi ha dato il pane di scese dal cielo. Perché chi ha mangiato il pane la manna nel deserto è morta. Il pane che io vederò è la mia carne per la vita del mondo. cioè di mangiare la mia vita per nutrirvi di me. La verità è Gesù. La mia vita è Gesù. La nostra esistenza è Gesù. E Gesù è la presenza di Dio. È Dio presente in mezzo a noi. Gesù è l'amore di Dio manifestato, rivelato e comunicato a noi. È la vita di Dio. Perciò chi mangia questo pane non morirà in eterno dice Gesù. Questo è il pane che dona la vita eterna. E Gesù infatti dice nel Vangelo di oggi in verità io vi dico chi crede ha la vita eterna. Si mangia di Gesù con la fede. Questo è il pane disceso dal cielo. I vostri padri non hanno mangiato la morte non è deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo. Perché chi ne mangia non muoia. io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo. Dentro di te sorella, fratello, dentro di te c'è questa fame. C'è questa fame. Tante volte si vorrebbe saciare la propria fame ricorrendo agli affetti ma per quanto questi affetti si rapprofondi non sasino mai l'anima. Con gli affetti anche nel matrimonio l'unione d'amore deve portare a cercare Cristo. Lui è il pane vivo disceso dal cielo. Signore, vogliamo dirti come i giudei dacci sempre di questo pane e come la samaritana vogliamo dirti dammi sempre di quest'acqua e che ne beve non avrà più sete. Vieni, Signore, a stasiare la nostra fame e la nostra sete di te. Donaci di riceverti nella nostra vita per mezzo della fede accogliendo la tua parola. Tu hai detto ai tuoi discepoli se mi amate osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre e Dele darà un altro consolatore lo spirito di verità che il mondo non conosce perché rimanga con voi per sempre. Questo è il tuo pane Gesù. Oggi ti preghiamo sanziaci di questo pane. Tu hai detto ancora ai tuoi discepoli se uno mi ama osserverà la mia parola e qual è la tua parola? Ho dato la vita per te. Ti ho perdonato sulla croce. Ti ho amato fino alla morte e la morte di croce. Per te ho dato la mia esistenza. Per te ho dato tutto. Ti ho perdonato i peccati. Ho congelato le tue colpe. Ti ho preparato un posto in paradiso. Ti ho assimilato a me. Signore donaci la grazia di mangiare questo pane attraverso la tua parola. Quel pane che poi tu ci doni nel sacramento dell'eucaristia perché la tua parola si fa sacramento e si dona a noi e nelle eucaristie ci dona la gioia di celebrare che tu e noi siamo uno. Tu fai perfetta piena e totale comunione con noi. Grazie Signore a te salga la nostra rote la nostra riconoscenza per tutti i secoli e dei secoli. Amen. Vergine Santissima che nella tua vita non hai mangiato altro pane per saziare la tua anima se non la carne di Gesù lo spirito di Gesù accompagnaci in questo cammino e donaci di saper riconoscere Cristo e Gesù nella sua parola e di saper raccogliere nel nostro cuore per non essere più noi a vivere ma sia lui a vivere in noi la rote e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E vogliamo fratelli concludere queste poche parole con parole del Salmo popoli tutti benedite il nostro Dio fatele suonare la voce della sua rote è lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Amen.